Proseguono le arringhe difensive nell'ambito del processo che si celebra con il rito abbreviato davanti alle giudice per udienze preliminari Marco Gaeta scaturito dalla maxi operazione antimafia Montagna ad essere discusse le posizioni di Giuseppe Nugara e Raffaele Larosa considerati dagli inquirenti vertici della famiglia mafiosa di San Biagio Platani, di Angelo Di Giovanni ritenuto componente della famiglia mafiosa di Favara e Roberto Lampasona. Per i primi due è intervenuto l'avvocato Nino Gazziano che prima di entrare nel merito delle singole posizioni che saranno trattate in una apposita udienza il 17 giugno prossimo si è soffermato su considerazioni e ricostruzioni di tipo storico del fenomeno mafioso in provincia di Grigento. Forti dubbi in tal senso sono stati manifestati nei confronti del collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta che secondo la difesa con le sue dichiarazioni starebbe sconfessando 30 anni di ricostruzione sentenze passate in giudicato che non indicherebbero alcun mandamento della montagna ma soprattutto nessuna famiglia mafiosa a San Biagio Platani. Secondo gli inquirenti di parere diametralmente opposto nel periodo di indagine si registra un forte fermento all'interno delle famiglie mafiose e per volere di fragapane si sarebbe costituito il nuovo mandamento e San Biagio Platani per gli inquirenti rappresenta un ottimo punto di partenza per le indagini considerati numerosi appalti pubblici in quel momento storico e Nugara incensurato fino al momento dell'arresto rappresenterebbe il nuovo capo della famiglia di San Biagio Platani. Il suo principale interlocutore sarebbe stato proprio Giuseppe Quaranta allora referente della famiglia fragapane e oggi suo principale accusatore. È durato circa 90 minuti invece la ringa dell'avvocato Giuseppe Barba che ha discusso nell'interesse di Angelo Di Giovanni 47 anni accusato di associazione mafiosa e tre ipotesi di estorsione. Anche in questo caso contestate le ricostruzioni del pentito fornite dal collaboratore di giustizia Quaranta che secondo la difesa indicherebbe in un primo momento di Giovanni come semplice avvicinato a disposizione del cognato ma privo di spessore criminale salvo poi in una seconda dichiarazione indicarlo come componente della famiglia mafiosa con disponibilità di armi e attivo nel campo della droga e delle estorsioni. Il legale ha sottolineato come durante la fase di collaborazione Quaranta siano state effettuate delle perquisizioni nei confronti di Di Giovanni che hanno sempre dato esito negativo. Su Di Giovanni pende una richiesta di confisca beni da parte della direzione distrittuale antimafia di Palermo per un valore di circa 300 mila euro. Il troncone del processo con il rito abbreviato vede imputate 52 persone, 6 invece le persone che hanno scelto la via del rito ordinario con processo in corso davanti la prima sezione penale del Tribunale di Egrigento. L'accusa in aula è sostenuta dal sostituto procuratore della direzione distrittuale antimafia di Palermo Alessia Sinatra. Si torna in aula il 13 maggio.